Voi, buonasera, salve, buon appetito! Voi che senza arredo mangiate, che il vostro amico è grande, in effetti si vede, siete in carne, siete in forma, organizzate anche domenica una straordinaria marcia per la vita, no? Con i vostri amici di Forza Nuova e Milizia Cristi, voi, lei in particolare, che la vita l'ha sgrossata, tagliando la sanità per la Regione Lazio, lei e tutti voi vi dovete vergognare! Voi vi dovete vergognare! Voi vi dovete vergognare! Voi vi dovete vergognare questo mezzo! Voi fate sì! Mangiate, forza, piatti pieni, mi raccomando, in piena salute voi! Voi vi chiedete, non c'è niente da ridere! Voi vi dovete vergognare fascisti, infami, bastardi, vergognare! Voi vi dovete vergognare la nostra politica vincenica! Voi vi dovete vergognare la religione, continuate a cantare da soli! Voi vi dovete vergognare la nostra politica vincenica! Voi vi dovete vergognare la nostra politica vincenica! Voi vi dovete vergognare la nostra politica vincenica! Questa è la dimostrazione! Ma come stascia la carta? Ma che cazzo fuori! Ma che cazzo hai mati! Non d'amora! Tu almeno mi fai! Tu almeno mi fai! Ma non mi fai! Non mi fai! i sordi che fate stasera? come ve li difendete quando le danno i sordi? come ve li difendete? vergogna! vergogna! vergogna!